Il palazzo di Cisterna Il palazzo di Cisterna Con Antrobiani analizziamo anche questa prova che non ha portato punti alla città di Cisterna Purtroppo no, purtroppo no, nonostante stiamo lavorando bene, stiamo giocando altrettanto bene però purtroppo non riusciamo a raccogliere punti, un po' per colpa nostra sottoporta oggi purtroppo è stata una defaianza del nostro portiere che sbaglia raramente però purtroppo è umano anche lui, quindi come sbagliato mi sottoporta noi purtroppo un errore era fatto anche lui e quindi è andata così Ecco, sabato scorso è arrivato un pareggio, oggi addirittura una sconfitta al momento buon che stava avendo Cisterna si è fermato? No, assolutamente no, noi dobbiamo ripartire da questi pareggi e da questi sconfitti sono queste che ci forgiano purtroppo ti ripeto, stiamo allenandoci bene, il gruppo c'è e il campionato della classifica non rispecchia quello che noi stiamo facendo in campo